È una gara veramente dura, ma comunque bellissima perché ci sono diversi paesaggi che troviamo nel parcorso e a me mi sembra che veramente ci sarà un bel divertimento, c'è anche la competizione e tante amicizie da tanti. Grazie a tutti. 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 Quinta tappa della Transpeer 2018. Quinta tappa della Transpeer 2018. Adesso siamo con Francesco Solà, press office di Transpeer 2018. Partiamo da Ainsa, che è una bellissima città, per andare al prossimo arrivo che è... Haka. Un'altra bella cittadina che scopriremo nel corso di questa giornata. Cosa ci puoi dire di Haka? Haka è una bellissima città, come direi. Una città molto esportiva, soprattutto per il tema della neve. Tiene molti estazioni di eschì. È molto preparata per albergar turisti e esportisti durante tutto il anno. E anche con molta tradizione di ciclismo. Adesso di Transpeer, ha altre proprie cicliste che si sviluppano per il Pirineo Aragonese. E' una città che sempre ci ha accogito molto bene. E con Transpeer siamo encantati di arrivare una volta più a Haka. Bene, quindi sorprese dopo sorprese per questa Transpeer. E quindi speriamo che anche la parte italiana aumenti di numero per le prossime edizioni di Transpeer. Che non è soltanto una gara, ma è una scoperta di un territorio eccezionale. Allora, Luis di Barcellona ha una particolarità. Tutti i giorni ha una camicetta diversa a quadri. Questo è un bico, come sempre. Per me c'è la quarta Transpeer. Ah, la quarta Transpeer. Quarta Transpeer. Si, quindi... Transpeer e dura. Dura. Ah, è bellissima. 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 Questa è l'ideola di Gioidra. E' l'ideola di Gibeidra. Esa è l'ideola di Gioidra. È lì, es lì, è lì. Un campione, un campione di questa Transpil, Martín Galardo. Siamo insieme al vice sindaco di questa città, Susanna Lacasa. La Transpil significa una apuesta più importante. La Transpil supone 400 persone che conoscen Jacca e tutta questa pubblicità che in altri paesi c'è di Jacca, per che tutta Europa e il mondo possa conoscere che Jacca è una città che apuesta per il deporte, che apuesta per la bicicletta e, beh, questo è soprattutto... Ha detto che è molto importante la manifestazione ciclistica della Transpil perché si inserisce nel loro programma di promozione a livello internazionale. Infatti, 27 nazioni rappresentate in questa manifestazione che permetteranno di conoscere meglio le particolarità di Jacca. Il Luiz, ora quando venga lleno di barro, perché mi ha enviato un Whatsapp, mi ha detto che c'è molto barro, molto, molto barro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Traspir 2018. Settima tappa. Ultima tappa. Sentiamo già l'odore dell'oceano. Siamo qui a Burguet insieme al Sindaco di questa cittadina, Luiz. Buongiorno a tutti i miei amici del cielo. La Transpire è un evento importante qui in questa terra magica dei Pirinei, è una delle parti più duri della etapa del calendario del Transpire. La verità è che siamo in una zona magica, terra di brujas, e è molto speciale ricevere tutti i ciclisti. Transpire occupa tre piccoli popolini di tutta la zona, e questo supone economia, è una zona delle più piccole dei Pirinei. E in questo senso siamo piaciuti tutti i anni di ricevere questa organizzazione così spettacolare. Bene, io sintetizzo quello che ha detto il sindaco Luis, che questa è una terra magica. Lo posso confermare perché quando siamo arrivati qui proprio la magia di questa terra la sentiamo proprio nel cuore. Conferma anche per Gurguet che è una manifestazione molto importante che occupa tre paesi. Cioè questa carovana che si muove è veramente molto importante ed è contento di avere questa manifestazione per il nono anno e quindi avremo anche per il decimo anno. Bene, grazie a tutti ci vedremo sulle spiagge dell'oceano per concludere il nostro servizio. Io mi dispido e invito a tutti i amici di Mugielo a venire a Pirineo, Navarro, a Gurguet, più tranquillamente e a conoscere tutto il paesaggio che è spettacolare con e con il sole. Il sindaco si è impegnato però è un po' pericoloso perché lo prendiamo in parola. Ci ha invitato a venire quando ci sarà il sole e saremo suoi ospiti. Grazie Luis. Buon viaggio. Grazie. siamo alla fine è finita la transpir 2018 siamo partiti 350 mountain biker è arrivata una famiglia una famiglia che si voleva bene tra ciclisti si sono aiutati tra supporter si sono aiutati Oriol se ci puoi dare qualche numero e soprattutto quello che da parte tua che è l'emozione della transpir 2018 sì per me è stata una delle edizioni più belle perché abbiamo avuto una primavera con tanta pioggia questo fa che sia tutto molto verde e tanti fiori è stata una transpir dura perché questo ha fatto anche che sia complicato qualche volta di avanzare abbiamo avuto soltanto un 10 per cento dei partecipanti che non ce l'hanno fatta finire questo vuol dire il 90 per cento anche sia sia una delle gare più dure del mondo questo vuol dire che veramente la transpir viene fatta da gente che si allena tanto e dopo che tira tutto il meglio di te fuori motivazione perché vuoi arrivare all'altra all'altro mare e per me è vero questo che dici saverio che nella transpir è una competizione ma la gente si aiuta e questo lo dicono tante gente che ha fatto gare e che sono la competizione veramente quasi contro di l'altro e qua veramente dell'aiuto è una gara ma direi che fosse di più è proprio un'esperienza è un'emozione l'ho vissuta in prima persona come supporter agli stream bike Mugello ma ho trovato veramente una una volontà di un'organizzazione che vuol far conoscere un percorso e fare unire le diversità 27 nazioni 50 per cento dei partecipanti sono stranieri e mi sembra che abbiamo avuto presso di 15 italiani venite a conoscere i pirenei perché sono una cosa meravigliosa e l'organizzazione lo garantisce che sono una cosa meravigliosa e l'organizzazione lo garantisce un saluto da parte del Mugello dal sindaco di Porto San Lorenzo e dagli atleti della transpir e un saluto a tutti i sindaci dei pirenei un saluto da parte del Mugello dal sindaco di Porto San Lorenzo e dagli atleti della